Ucciderà del filo da torcere, poi essendo uno sportivo. Speriamo non balli bene. Appena vediamo la tecnica del nuovo arrivato, sappiamo se dobbiamo preoccuparci o no. Ho visto solo quel bel ragazzo, tutto abbronzato, sportivo, ma non solo, perché è anche bellissimo. Un atleta fisicamente perfetto, che mi ha alzato un dito. Io sono andato e cresciuto a Trento, ho cominciato a far scinautico all'età di 5 anni. La prima volta che sono andato via da casa, negli Stati Uniti, è stata nel 2001, per provare a diventare ancora più forte. Noi ho vent'anni e buttarci in un altro mondo non è facile, però ad ogni sfida bisogna affrontarla con determinazione e non guardare in faccia a nessuno, perché nessuno ti regala niente. Ce la faremo? Ballare è qualcosa che non ho mai fatto nella mia vita. Parto un pochettino svantaggiato, però io ci metto tutto, ci provo e cercherò di impegnarmi al massimo. Di sicuro è una nuova via per capire anche un po' me stesso come sono fatto. La mia vita è basata sulla preparazione. Se io mi preparo, so che posso vincere. Non bisogna aver paura della staffetta, bisogna aver paura di chi sta dentro. La bellezza, bisogna ballare qui. No. No. Grazie a tutti.